Todis è un'azienda che fonda sulla prossimità la sua la sua crescita negli anni e proprio della prossimità abbiamo fatto una delle nostre chiavi di successo ed elementi strategici riteniamo fondamentale servire il cliente sotto casa sua di essere molto vicini al nostro cliente e farlo attraverso i servizi che è la prossimità stessa a chiederci quindi attraverso il fresco attraverso gli assortimenti nel fresco quindi attraverso quella che è la spesa quotidiana Gli investimenti in sostenibilità in un'azienda come la nostra che è un poor franchisor quindi un'azienda che fa solamente affiliazione devono essere usate gioco di parole sostenuti anche da aspetti concreti di ritorno continuiamo ad investire in sostenibilità diretta dove la tecnologia ha molto spesso specie quando parliamo di investimenti che debbano avere un riscontro poi sui punti economici quindi la tecnologia in questo caso è sempre al nostro piano una conferma della visione di azienda che poi è diventata effettivamente l'azienda che oggi è nata proprio durante un tour quando visitando dei punti vendita negli stati uniti ho effettivamente capito che quello che avevamo in mente come visione imprenditoriale di quello che questa azienda che nasceva come un scout poteva essere effettivamente era già stata realizzata e quindi questo come dire mi ha dato coraggio e ogni volta che ripenso a questi tour che poi pianizziamo quasi annualmente è stato quello che se vogliamo qualcosa dell'anima di questa azienda nasce proprio in un in un retail tour e comunque sono il mezzo per trovare sempre nuovi stimoli e nuovi spunti non è mai successo che al rientro da un tour non ci sia stato un progetto grande o piccolo che poi non sia effettivamente atterrato sui nostri punti di vetro